Al Battipaglia Beach Village non solo volley, ma oggi con noi c'è Samuele Fortunato, uno degli istruttori della Sport House. Samuele, due giorni di attività, di divertimento, come è andata? Ma direi benissimo, fin tanto che si tratta di far giocare i bambini e farli divertire va sempre molto bene. Secondo me è una di quelle manifestazioni che andrebbe allargata, andrebbe allargata fatti più giorni sicuramente. Un ringraziamento e un plauso a Gianluca Falcone che quasi dal nulla, di anno in anno, si migliora e sta facendo una bellissima cosa per Battipaglia. Loro che classe sono? Loro sono gli esordenti 2008 della nostra scuola calcio. È un gruppetto che si fa balere, si divertono e giocano sempre con il sorriso, che è la cosa più importante. Ora andiamo a conoscere uno alla volta. Nome, cognome e ruolo? Elio Fimiani, centrocampista. Emanuele Marmo, difensore sinistra. Angelo Persano, portiere. D'Aureo Raffaele, alla sinistra. Rocco Mazzeo, attaccante. Ma fai tanti gol? Domenico Russo, portiere. Boffa Francesco, terzino destro, alla sestra. Adriano Dolomeo, alla destra. Alessandro Canzetti, terzino sinistro. Menichino Antonio, difensore centrale. Vito Toriello, trequartista. Cristiano Oliva, punto. Io sono anche io, figlio. Jacopo. Ah, pure tu non sei il piede, ma dove andiamo? Jacopo. E tu pure giochi? Sì, è solo che sono un po' piccolo. Sabatino Ciaia, terzino destro. Gerardo Vece, difensore centrale. Antonio Roel, portiere. Vi è piaciuta questa manifestazione? Sì. 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 誓 Hai. Sì. E tuore nu vecchio? Sì. 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 Grazie a tutti.